Ciao ragazzi, vi ricordate del video di Villa Ottolenghi? Andate qua sotto a rivederlo se non vi ricordate e la titolare Silvia Invernizzi mi ha mandato un video, sentite cosa mi dice Silvia Invernizzi, io sono qua insieme alla mia borsa che si chiama Marca e siamo qua seduti in Villa Ottolenghi con il solo ed esclusivo quando si rigira la sua mamma anche io rimango con il solo ed esclusivo intento di dire grazie Jacopo per il video meraviglioso che mi hai fatto lo sto facendo girare in tutte le maniere, tutti mi chiedono chi è il regista e tutti mi dicono di dirti che quando sarai un pochino più grande e quindi uscirai dalle scuole superiori di iscriverti ad un corso da regia professionale perché sei veramente bravissimo io non ho mai visto nessuno, superi anche Kubrick, sei un mito io e la mia borsa Marta adesso ti baciamo e ti salutiamo ma grazie mille Silvia per le tue bellissime parole me lo auguro anch'io di diventare un bravo regista ci vediamo alla prossima visita, ciao!